Ehi là, bentornati e bentornati su Broken Stories, dove parliamo di narrazioni dark e immaginifiche. Questo è il video celebrativo per i 5.000 iscritti e freccia qui con me per ringraziarvi. Oggi facciamo un video un po' particolare, decisamente diverso da solito, ossia quello che chiamano un bookshelf tour. Vi mostrerò le mie librerie, sì, sì, vi mostreremo. Solo un avvertimento, è stato registrato con un cellulare e un microfono portatile, e quindi la qualità audio e video non è comparabile a quella di questa inquadratura, ok? Dunque, ecco come funziona. Questa è la libreria principale, quella che vedete alle mie spalle quando registro i video. Sono 2 metri per 2,40 di storie dark e immaginifiche. Naturalmente non è tutto qui. Qui ci sono altri spazi, vedete, non è giù, piccole scansie. Qui abbiamo a parete diversi scaffali molto rudimentali, molto semplici, come vedete, sono praticamente autocostruiti, con delle staffe e dei ripiani di legna di pino. E qui ci sono forse tanti libri che non sono necessariamente tipici di Broken Stories. Così come questi. Prima di andare avanti, vi dico che in questo video vi mostrerò tantissimi libri. Se volete sostenere Broken Stories, potete fare i vostri acquisti all'interno dello shop di Broken Stories, che io ho creato all'interno di Amazon. Il fatto è che però in questo video vi mostrerò libri che lì dentro non ci sono. E allora, se volete essere sostenitori, senza che a voi costi nulla, come fare? Ve lo spiego subito. È facilissimo. Entrate nella pagina Amazon di Broken Stories, dove trovate le categorie. Per esempio entrate in Fantasy Kingdom. Ci sono tutti questi libri, ma non volete acquistarli. Allora comunque cliccate sopra uno di questi a caso. E una volta qui, inserite nella barra della ricerca il titolo che vi piace di più. Per esempio, Billy Budd Libro. Eccolo qui. Cliccate e acquistate regolarmente. In questo modo mi aiutate comunque a sostenere il canale. Yes! Ok, entriamo un po' più nel dettaglio. Che cosa vi sto mostrando? Vi sto mostrando dei vecchi attempati e rispettabilissimi. Urania Mondadori. E altre pubblicazioni da Edicola, come i Berblocchi, il Regno della Notte, no? Mondadori. Mondadori in Edicola soprattutto. Perché vi sto mostrando questo? Perché la verità è che come lettore io non mi sono formato tanto con i Naudi, o tantomeno a Delphi, che a casa mia non ha mai avuto asilo facilmente. Io sono stato un avido lettore di narrativa popolare pubblicata e in Edicola, distribuita in Edicola. che, sì, è sempre stata tacciata di essere sotto letteratura, e intendiamoci, molto spesso lo è, ma in mezzo ci sono grandissimi autori come Douglas Adams, come James Herbert, come... no, come neanche Richard Lehmann, divertente, ma diciamo la verità, insomma, anche piuttosto grossolano. Beh, allora, Fritz Leiber, dai ragazzi. Quindi Urania mi ha veramente aperto la mente e l'immaginazione sul mondo infinito. Io ero un divoratore di questo tipo di narrativa, assolutamente. ed è così che per me venne poi l'era di una grande scoperta. Richard Marson, scrittore ineguagliato nel campo delle storie strane, mettiamola così, dalla fantascienza al weird, al thriller soprannaturale, qualsiasi declinazione dello sgomento, con una scrittura secca e minguagliana, questo fu il mio primo approccio con lui, in un'urania, come vedete, dell'87, vuol dire che avevo 15 anni, e fu pazzesco. Dopodiché ho recuperato diverse cose sue, beh, naturalmente, io sono leggenda, io sono Ellen Driscoll, 3 mm al giorno, la raccolta di racconti regola per sopravvivere, e le raccolte shock, prima e seconda parte, ma poi questo eccezionale, eccezionalissimo racconto di case infestate. Più recentemente, questa sua opera, dedicata ai lettori più piccoli, davvero molto gustosa. E poi, più o meno nello stesso periodo, arrivò Stephen King, il primo libro che lei si fu it, poi recuperai tantissima roba, come potete vedere. Qui c'è tutto, diciamo, il primo King, dopodiché io e lui abbiamo un po' scelto strade diverse, ma quanto amore per King, quanto amore. E poi che King mi aveva introdotto alla narrativa horror, iniziai a leggere diversi autori. E tanti sono sparpagliati per casa, sia i classici che i moderni, i contemporanei, eccetera. Ma quello che più mi piacque, e naturalmente i derby in quegli anni 90 e primi 2000, era Stephen King contro Clive Barker, fu appunto lui, il genio di Liverpool. Questo fu il primo libro che misi sotto i miei occhi esterrefatti. Erano i libri di sangue. Adesso ce li ho in edizione e-book, ho recuperato l'edizione Fanucci, però penso che queste vecchie traduzioni siano più riuscite. Come vedete qui c'è il gioco dannato, il libro di sangue 2, una delle copertine più brutte della storia dell'editoria, la casa delle vacanze, un libro per ragazzi, ma con la sua grande immaginazione. Mondo in un tappeto, ma soprattutto il suo grande. Questo è il suo signore degli anelli, diciamo la verità, immagica. E io spero che un giorno qualcuno lo ristampi. Poi abbiamo il Kenyan delle ombre, insomma altri suoi li ho letti, per esempio la saga di Abarat, ma non è che mi sia piaciuta tanto, se devo essere sincero. Negli anni purtroppo il nostro grandissimo secondo me si è un po' perso, ma non importa, li vogliamo bene. Ma poi naturalmente in quegli anni c'era anche Paolo Di Orazio, che se ne veniva fuori con questo Primi delitti, che uscì in edicola, e fu sconvolgente, una bellissima scoperta, seguito subito dopo, mi pare un anno dopo, da Madre Mostro. Come vedete qua ci sono diversi suoi libri abbastanza vintage. Il primo romanzo, il peggiorno del buio, poi il dipinto ucciso, e altre sue opere che conservo qui, alcune delle quali sono assolutamente contemporanee. Paolo adesso ormai è anche un caro amico, perché la vita è molto divertente. Ci sono... beh, questo mi piacerà. Sapete cos'è questo? Queste sono le mie prime prove di scrittura, ma non intendo dire come autore, intendo dire come bambino. Ecco, la prima cosa che scrisse in vita mia, Capuccetto Rosso in prima elementare. Crichton, Guglielmo del Toro, La Progenie, Dean Koontz, il più bel libro che io abbia letto di Dean Koontz, Intensity, è straordinario. Non amo Dean Koontz, ma questo è un grande libro. Poi robe diverse. The Wonder Box è una specie di saggio su come vivere. Dicevo così. Molto bello. La Eneide me lo conservo dal liceo, perché è straordinario. Se mi tocchi ho un brivido, è una bellissima antologia di horror erotico. Poi ci sono tanti fumetti, come potete vedere anche qui, di diverso tipo. Per esempio qua si può segnalare Il Corvo, un'edizione Spelling & Coopfer, si può segnalare un William Gibson, le storie di vampiri, no, di lupi mannari, scusatemi, nei mammuth da Nathan Compton, come anche un gotico rurale prima edizione di Raldo Baldini, La Bambola che Dio la Sua Madre di Campbell, è il meraviglioso mondo, il meraviglioso mago di Oz, scusatemi. Qui altri Urania. Bisogna considerare che io ne ho letti tanti di più di libri, di quelli che vedete qui, perché molto spesso poi li rivendevo da ragazzo, per potermi permettere di comprare quelli successivi, però i migliori ottenuti, naturalmente qui ci sono C'è Isaac Asimov e non si discute, c'è un Fritz Leiber, In Grande Tempo, ancora Heinlein, 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 un Valerio Evangelisti, tutti i denti del mostro sono perfetti, con una bellissima antologia, un Playboy, grande libro della fantascienza di Playboy, Philip Dick, Craig Bradbury, Henry Miller, che quando ero Joe in Cella mi piaceva molto, adesso mi dà soltanto i nervi, devo dire che è così. E poi autori italiani, Torello, De Micheli, Saturnini, San Filippo, Impelliteri, Nork e il suo fantasy. Qui, che ve lo dico a fare, ci sono un bel po' di giochi per Xbox 360, così come anche per PlayStation 4. Ma i videogiochi mi sono sempre piaciuti, se poi considerate che li ho visti nascere quando ero un ragazzino, un bambino anzi. Oh, qui c'è un Luna Affamata, di Campbell, che merita, è sempre Campbell. Qui si può notare che comunque la mia predilezione per i libri che uscivano in edicola è testimoniata e il vostro onore colpevole. Crichton, block. È così, l'edicola era l'internet dei miei tempi, di quando ero un ragazzino, ma soprattutto era la mia mecca. Quindi, ricapitolando, questa è la libreria di Broken Stories, qui è tutto dark e immaginifico, però tante altre opere, vero Freccia? Tante altre opere sono in realtà qui, in questa libreria, qui in fondo, ed è qui che adesso andiamo a curiosare. Ok? Allora, vi dico subito che questo è un gran caos, è una libreria molto eterogenea, come potete vedere, cioè, la segreta del libro della storia del mondo, un libro di storia contemporanea dei tempi dell'università, un confessione di un mentalista, capite che, insomma, c'è un po' di tutto qua, il mago dei numeri, e poi un po' di Pinketz che non fa mai male, grandissimo autore che mi aprì tutti i chakra quando lo lessi la prima volta. questo qui, notate, altri libri di edicola, divertentissimo, la storia di questo criminale inglese, un'autobiografia, naturalmente scritta da un ghostwriter, quindi un collega che immagino si sia divertito tantissimo nello scriverlo. Jeffrey Deaver, Jeffrey Deaver è suspense pura. Andiamo avanti. Beh, questo è un grande libro della letteratura nordamericana che parla, insomma, di populismo, di politici populisti, e oggi come oggi tutti gli uomini del re è incredibilmente come tutti i classici. Attuale, attualissimo. Libri un po' particolari che probabilmente non avete mai letto o mai sentito nominare. Augustine Burroughs ha scritto prima questo correndo con le forbici in mano, un'autobiografia molto sofferta, e poi questo dry, la storia del suo alcolismo. era, non so cosa faccio adesso, se ci sia ancora, eccetera, un copywriter, una persona molto acuta, ha scritto dei libri, dei memoir, sono dei memoir notevoli. Il mondo dietro di te, l'ho anche recensito su Broken Stories e ha dato vita poi a una trasposizione su Netflix assolutamente minore. Andrea De Carlo, questo libro non so perché ce l'ho da una vita, perché in realtà non l'ho mai, mai e poi mai letto. Mentre ho letto, Serpico, bellissimo, bellissimo, questo è anche un memoir eccezionale. Se parliamo di Gialli, io ho sempre amato molto. Ed McBain, un autore eccezionale di polizieschi procedurali, molto realistici. Aldo Costa, uno scrittore turinese che ho avuto il piacere di conoscere personalmente. Gialli, Rex Stout, Nero Wolf è sempre stato per me un piacere. veramente ogni libro ha una chicca. Notate, ne ho letti tantissimi, ma qui ne ho pochissimi, li ho comprati ultimamente, negli ultimi anni, nelle bancarelle, così recuperando letture di infanzia, giovanili, che in realtà io facevo soprattutto e nei Gialli Mondadori che poi sono finiti dal macero o comunque ho rivenduto oppure andavo molto semplicemente in biblioteca e così leggevo. Poi cose serie, tipo arancia meccanica, e naturalmente Salinger, Franny Esoi, ma soprattutto Il Giovane Holder che è un libro che mi travolse completamente perché l'ho letto anche nell'età giusta, ma comunque è indubbiamente un capolavoro. Non sono magari tutti i capolavori, ma sono tutti libri eccezionali bellissimi, quelli di Dennis Lee Henn. Questo è Shutter Island in pratica, da cui è stato tratto L'Isola della Paura e il libro a cui è stato tratto Shutter Island di Scorsese e poi ci sono tutti questi gialli di una serie che hanno per protagonisti sempre lo stesso detective e sono bellissimi, io li consiglio molto agli amarti dei noir gialli così, insomma, scansonati e sicuramente un po' hardboiled come anche Uwe Dallapollia. Qui c'è praticamente La morte non dimentica che è Mr. Creaver. Un altro giallo Tom Clancy che ci spiega tutto sui Marines negli anni 90 quindi questo è un libro assolutamente superatissimo. Andiamo avanti con altri scomparti scendendo questi sono vabbè potete notare che io sono anche una persona di gran gusto e sono molto raffinato qui c'è anche Ibsen Cosa di Bambola un libro di fantascienza di quelli che mi furono regalati quando ero proprio un pupattolo avevo le medie John Valle nel segno di Titano erano belle queste edizie di Mondadori secondo me ma poi notate ancora che sono comunque una persona di gusto e di insomma anche di letture notevolmente altolocate perché qui abbiamo Allen Ginsberg Poesia Beat libro boh irrilevante un paio di libri sul Congo perché stavo facendo in quel periodo ricerche su questo 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 paese in quanto frequentavo avevo un amico congolese che era stato un grande campione di pugilato e volevo capirne di più La Valle dei Cavalli non l'ho mai letto è praticamente un giorno del Bright forse è un romanzo ambientato nella preistoria tra i Neandertal la protagonista invece è una Sapiens sono un po' più che storici sono fantasy ma invece questi sono totalmente fantasy come potete vedere Buttini e la sua trilogia del sole come si chiama del sole parli così o allora altri libri Davide Mana a me questo è un self publishing auto pubblicato bellissimo secondo me se parliamo sempre di gialli Buscafusco è un bellissimo personaggio vado avanti un po' più veloce questo lo devo assolutamente leggere a breve e ci farò un video credo che meriti una banda di idioti cose che mi piaceva leggere ogni tanto così per sforgugliare in mondi particolari gamers storia di passione per i videogiochi questo è un libro che parla soprattutto dei videogiocatori competitivi agonistici professionisti della prima era quelli dei tempi di pacman poi Kerouac forse il romanzo che è più amato di Kerouac la città e la metropoli è il suo primo romanzo non era ancora una storia totalmente sregolata alla sulla strada però è chiaramente l'opera di uno scrittore eccezionale probabilmente qui ancora non era fulminato e non era alcolizzato ancora un po' di Kerouac e Lunguadie di Raymond Chandler che ve lo dico a fare ancora Ed McBain vedete io la mia fase misteri l'ho avuta e poi vabbè questo Parker l'Inferno in Terra Richard Stark questi sono romanzi una raccolta di romanzi sono uno più al fulmicotone dell'altro mi piace anche molto Nick Corby come diventare buoni l'ho letto ma non ha insomma non mi ha non mi ha reso buono ma è davvero molto bello molto divertente andiamo avanti qui allora ragazzi qua c'è roba che Broken Out può interessare molto sicuramente American Gods Neil Gaiman una edizione ormai introvabile di Rain Eterno che adesso è invece intitolato nei Draghi Mondadori il re che fu il re che sarà T.H. White questa è un'edizione meno completa dei Draghi che include un romanzo in più cioè l'ultimo però però abbastanza introvabile quando mi laureai i miei amici che conoscevano bene le mie passioni letterarie mi regalarono il Demo di Terry Brooks e fu beh una grossa delusione veramente brutta questo è la raccolta dei romanzi appunto di Dragonlance credo i primi tre non posso dire di di averli letti quando era tempo no sì ho giocato giocavo a Dance and Dragons vi mostrerò magari la scatola rossa più avanti ma no non mi capitò di leggerli devo dire la verità forse di Terry Brooks si può salvare il magico regno di Landover che comunque ha un'idea di base notevole cioè quest'uomo compra un regno magico come una proprietà immobiliare Dio lo fulmini per aver copiato così malamente il signore degli anelli con questo la spada di Shannara però per fortuna lo acquistai nei miti 5.900 lire poca roba senza copertina ma eccezionale la storia fantastica di Goldman vabbè roba seria roba seria questa bella edizione dell'Hobbit fu la mia prima lettura tolkieniana è in tessuto dentro c'è la mappa separata bello bello e poi solo qualche tempo dopo il signore degli anelli edizione rusconi che col passare del tempo acquista valore un po' come il parolo edizione totalmente da edicola invece questa del sin mariglia mi scuseranno i torchignani di ferro ho recuperato questi vecchi fanucci che sì ma che non credo siano proprio dei capolavori però c'è qualcosa di valido qua dentro di soprattutto di molto lovecraftiano soprattutto direi questo Titus Crowe è una saga di Brian Loomley totalmente lovecraftiana e qua andiamo sulle cose serie ragazzi vabbè un libro gioco di Longo l'opera al nero di Yur Senar e un libro che io amo molto ho amato molto sono racconti stralunati totalmente mainstream questioni delicate che ho affrontato dall'analista fa morire da ridere ma ti fa anche molto pensare Jonathan Leitham scrittore di fantascienza è comunque sicuramente devoto al fantastico ancora qui negli anni 90 soprattutto andava forte mentre lui andrà sempre forte Fitzgerald il grande Gatsby Tenera è la notte due capolavori che io mi tengo stretti al cuore anche se fa male ogni volta che li leggo tra i grandi capolavori sicuramente possiamo mettere il segno rosso del coraggio che è un capolavoro cioè un grande romanzo antimilitarista ecco l'americana stiamo in america con Steinbeck piccolo con il viaggio con Charlie un romanzo che parla del rapporto una bella amicizia con un cane ecco un'amicizia che bisognerebbe tenersi stretta è quella con la costituzione italiana e quindi è qui in mezzo ai capolavori perché lo è oh del fantasy dai riprendiamoci con lettura un po' più light il risveglio dell'assassino e la leggenda dei direnai vabbè l'agenda dei direnai è uno dei libri fantasy che adoro di più in assoluto io non sono un grandissimo fan invece di Robin Hobb anche se ne riconosco la incredibile qualità questo è un libro che non ho ancora letto però costava 2,99 euro al Cafur e quindi l'ho portato a casa e l'ho salvato l'ho adottato cosa vi posso segnalare qui beh questo un Clark Ashton Smith è uscito nella collana miti di Cthulhu per Fanucci questa è un'edizione che costa dei bei soldi adesso perché è da collezionismo ci sono vari beh vari classici Billy Budd sì poi c'è Vargas io pensavo meglio questi gialli di Vargas boh vabbè questo è un capolavoro secondo me uno dei libri più tesi e spaventosi della storia se sentite etichettare perché il mio cane Freccia sta gironzoando per la casa Isabella Allende la casa degli spiriti sì l'ho letto non mi è piaciuto non mi interessa l'Allende o perlomeno questo tipo di storie poi devo dire che io non vado a pazzo neanche per Gabriel Garcia Marquez e tutte quelle atmosfere latinoamericane allora invece adoro adoro alta fedeltà adorissimo le storie di Arturo Bandini se non le avete mai letto procuratevi John Fante che dovrebbe andare di pari passo con il suo carissimo amico che fu anche l'uomo che lo riportò in auge in un certo senso e che gli diede sia la sua amicizia che il suo imprimatur di grande scrittore erano due sfigati da questo punto di vista e si amarono molto nell'ultimo periodo della vita di John Fante di chi sto parlando? Di Bukowski Bukowski è ben rappresentato nella mia in questa libreria ce ne sono vedete tutti questi sono libri di Bukowski io lo amo vabbè con in mezzo il nome della rosa che probabilmente si trova un po' a disagio in mezzo agli eccessi di Bukowski Bandini o meglio John Fante e Bukowski dovrebbero stare vicini e continuare a volersi bene un libro che ho amato molto è anche questo di John Irving poi scrisse anche il famosissimo le regole della casa del sidro ma questo perché per un amico è una storia se volete anche un po' kingdiana un po' soprannaturale su un'amicizia tra due bambini ed è molto commovente molto bello così come è straordinario straniero intero straniero questo è lo l'essi da adolescente questa è un'edizione del club del libro non è la versione integrale ma va bene così perché Einlein può essere molto prolisso bellissimo romanzo che parla di questo marziano che torna sulla terra e insegna agli esseri umani a praticare l'amore libero è un romanzo molto se volete molto hippie molto hippie sì Dune di Chalessi quando ero piccolo il gioco di Ender di nuovo Einlein questo qui è appunto uno di quei libri di Einlein che avevano bisogno di una bella sforbiciata noiosissima che altro abbiamo qui beh vabbè Alice Seabold l'ho molto amata con amabili resti e anche Lucky sono libri strazianti ma eccezionali qua in mezzo c'è vabbè un saggio sul fumetto a casa mia ce ne sono parecchi di saggi sul fumetto e anche fumetti guardate questo allora questo è Brooklyn Dreams che è un bellissimo fumetto in bianco e nero e un memoir a fumetti di Jim DeMatteis sceneggiatore di origine italiana con mamma ebrea e racconta la sua giovinezza a Brooklyn ed è straordinario fa morire da ridere ma è anche molto 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 profondo qui cosa abbiamo di particolare che io ricordo con grande piacere questo le memorie autobiografiche di Garibaldi che a me ha fatto capire che Garibaldi mi sarebbe stato molto simpatico se l'avessi conosciuto coraggiosissimo grande eroe romantico e anche un anticlericale assatanato cioè quest'uomo era peggio dei musicisti black metal un molto forte incredibilmente vicino di Jonathan Safran Foer che è uno di quei libri che mi ha fatto piangere che mi hanno fatto piangere di più in assoluto bastardo no l'ombra del vento non l'ho mai letto e qui mentre invece ho letto il vangelo secondo Biff ecco a proposito di libri che potrebbero essere anche tacciati di essere blasfemi ma non lo è non lo è questo è è un vangelo comico ma anche molto tenero indulgente e umano insomma dai mi è piaciuto moltissimo la versione di Barney uno di quei capolavori che sono piaciuti a tutti naturalmente io l'ho letto non ricordo niente quindi forse non mi ha lasciato molto posso anche vantare di avere questo Ulisse ma non ne parliamo non ne parliamo non ce ne bisogna un Cart Vonnegut Maltatoia numero 5 invece questo è un grande romanzo che mi ha lasciato esterrefatto e deliziato e scioccato urla sempre no non mi ha proprio no va bene Luther Blissett bellissimo bellissimo un po' di criminologia sui serial killer perché no Stoner Erroy che bravo che Erroy e che palle Erroy Ray Bradbury se c'è se avanza un po' di spazio ci si può sempre infilare un Ray Bradbury nelle librerie non fa male non fa male questo è il mio caldo invece Ken Bruen Prima della Notte un noir tristissimo poeticissimo detective irlandese alcolizzato che io amo ce ne sono tre di libri di Ken Bruen c'è Il Prete e c'è London Boulevard bello belli tutti e tre ma soprattutto Il Prete no scusatemi Prima della Notte numero 1 Ken Bruen London Boulevard il secondo Il Prete terzo dai Figlio di Dio uno dei più bei romanzi oggi lo chiameremo Novelette perché è corto sui Sarechilla naturalmente di Cormac McCarthy questa è la mia presa di laurea lasciamo stare però non vi ho detto di questo gli ultimi giorni l'apocrifo di Joe Panther si potrebbe benissimo accostare a questo e sì perché qui c'è il Vangelo secondo Biff sull'infanzia di Gesù eccetera e qui c'è un noir ambientato in giorni nostri dove il detective oh è convinto è convinto è anche abbastanza convincente di quello che è cioè chi è lui è Gesù Cristo è ancora vivo cammina fra di noi e fa il detective sì risolve casi di omicidio ok che ne dite passiamo un attimo a questa libreria dove vi avverto che c'è un'altra miscellanea di cose diverse e ben poco afferente ai temi specifici di Broken Stories quindi vi mostro subito questo scaffale dove fumetti Eric il Cavaliere del Drago le Guerriere della Valle e altri bei fumetti che ho anche recensito e altri no perché qui per esempio c'è di Michel Plessis il vento fra i salici un giorno forse affronteremo questo grosso tomo di Brandon Sanderson o meglio tratto da una storia di Brandon Sanderson si tratta di un fumettone americano c'è molto da dire in realtà e quello lo potreste anche trovare poi passiamo andiamo più avanti ci sono insomma libri importanti come L'Uomo Medievale di Chuck Le Groove ma a voi non interessa soprattutto questo dico bene libri e lettori nel Medioevo vedete mi rendo sempre più conto di essere il risultato di tante letture anche disordinate insomma ci sono testi che non hanno niente a che vedere con Broken Stories però come voi sapete io sostengo diciamo una certa che l'eclettismo sia importante prima edizione di W for Vendetta in Albetti Spillati dentro Corto Maltese una rivista di cui sono stato curatore strane storie e poi si passa beh tante cose belle ma questo questo in particolare io lo consiglio e straconsiglio è un fumetto inconcluso però la migliore secondo me trasposizione a fumetti che si è mai stata realizzata di cosa? della guerra di Troia è bellissimo bellissimo andiamo sotto allora qui c'è tutto Sandman di Neil Gaiman c'è anche un Re Artù a fumetti francese solo due volumi però sorry naturalmente Mouse è il capolavoro a fumetti che tutti dovrebbero leggere prima o poi ma perché è un capolavoro in generale della letteratura in questo caso disegnata io di text ne ho letti stra fucking milioni ma non ne ho conservati così come tante altre letture come vi ho già detto tante cose io le ho rivendute e poi sono anche erano letture da biblioteca frequentate le biblioteche ragazzi sono posti molto belli dove perdersi fra i libri e scoprire tanti autori Alain Moore è ben rappresentato a casa mia assolutamente magari un giorno faremo una monografia su di lui altri fumetti della Vertigo altri rispetto a Sandman intendo dire sono molto affezionato a questa collezione di horror fumetti dell'insolito pubblicata negli anni 90 da Comic Art Midnight Nation ve l'ho recensito se non l'avete visto andate a recuperarvi il video perché è una bellissima storia il punitore e che ve lo dico a fare soprattutto se scritto da Garth Ennis è eccezionale Shara Sde di Sergio Toppi vedete ci sono tantissime robe enciclopedia del fumetto il dizionale illustrato di Franco Fossati buonanima che mi aiutò quando venne il mio momento di scrivere la tesi di laurea qua ci sono un po' di giochi di ruolo la scatola rossa di Dungeons and Dragons un po' di cyberpunk alcuni manuali di GURPS vabbè quello set base GURPS Conan Fantasy e Magic GURPS Conan è molto bello perché c'è molta geografia dell'era iboriana e poi vabbè l'ultima versione di Dungeons and Dragons andiamo sotto libri di archeologia di storia da Nathan Compton Marvels da Arkham eh vabbè Marvels è questa roba qui Alex Ross non so se lo conoscete un Arkham Asylum bellissimo e poi tanto proto anzi diciamo antico Frank Miller cioè antiche edizioni in realtà Electra Assassin Ronin la prima edizione italiana in volume di Batman il ritorno del Cavaliere Oscuro si è occupato benissimo anche di Devil come sappiamo Dare Devil una copia autografa di Will Eisner e poi Conan di Conan ho tante edizioni diverse tanto anime prima edizione una bella guida al cinema d'animazione giapponese e anche alla tv in animazione giapponese poi abbiamo questo bel manuale smithsoniano dei comic book quello è un libro che soffiai ad Alfredo Castelli in persona durante una fiera perché anche a lui interessava molto averlo però io sono arrivato dieci secondi prima di lui un po' di Superman Linkal Superman vabbè io ci ho scritto la tesi di laurea quindi ho tante cose di Superman il nostro grande Alain Moore From Elle è una lettura incredibile così come Something il suo Something una enciclopedia del fumetto francese con tre volumi gigantesca ma vogliamo parlare un po' di scrittura creativa? ci sono alcuni libri interessanti qui per esempio scrivere Zen di Natalie Goldberg molto interessante e molto ispirante non tanto per pubblicare ma per scrivere ci sono due cose diverse lo Zen nell'arte di scrivere Ray Bradbury che come vi ho detto insomma se c'è uno spazietto infilateci un Ray Bradbury che va sempre bene questo libro non vi insegnerà a scrivere assolutamente e non c'entra niente con lo Zen comunque entusiasmo diciamo che è abbastanza motivazionale ci sono beh vabbè ok Virginia Woolf Una stanza tutta per sé testo sia di scrittura che di femminismo importante quando avevo 15 anni andai la prima edizione del Salone del Libro di Torino e cosa comprai? un libro solo questo lezioni di letteratura vedete un po' come ero messo a 15 anni morfologia della fiaba e narratologia pura se lavori nell'editoria un manuale di stile può farti comodo guida alla redazione dei documenti relazioni articoli manuali tesi di laurea e non fate i furbi non fatevi scrivere le tesi di laurea di Ego Strider qualche volta mi è stata proposta questa cosa ho rifiutato sdegnosamente e stavo anche andando alla polizia queste sono le più libri di aziendali però comunque hanno a che fare con lo storytelling e quindi sì mi interessa storie che incantano nel lato narrativo del brand Raymond Carver il mestiere di scrivere dal punto di vista di un gigante non è che però insegni granché vi fa solo capire una cosa dovete sudare sangue bastarti questo vi fa capire On Writing un bellissimo libro soprattutto per quanto riguarda l'autobiografia secondo me di Stephen King e poi vabbè si dice delle cose sacrosanti sulla scrittura sono diciamo una formazione di base sulla scrittura grammatica della fantasia un rodare gli esercizi di stile di che no una bellissima copertina che adoro il mestiere del copywriter sì come vi ho detto ero un copywriter ero un coprivater dicevano altri per prendermi pu culo guida pratica all'italiano scritto un manualetto molto carino e divertente e poi vabbè questi qui story e dialoghi di Robert McKee che non dovreste assolutamente farvi mancare per comprendere qualcosa di più avanzato soprattutto se sapete l'inglese narrative design ecco qua working with imagination craft and form roba più seria più avanzata più faticosa il rumore sottile della prosa Giorgio Manganielli che insomma signoreggia e questo è un libro che consiglio a tantissimi autori pubblicati impariamo l'italiano di Cesare Marchi è importante ragazzi copertina tra le più brutte della storia dell'editoria universale perché insomma Marchi sei bravissimo però è che sei proprio un fotomodello da mettere in copertina e alcuni libri sulla creatività perché la creatività è un muscolo quindi si può benissimo allenare strumenti per la creatività libera la tua creatività creatività beh insomma questo naturalmente per tutti noi che siamo samurai il libro dei cinque anelli non c'entra niente come vedete come vedete la mia cacchio di biblioteca è sempre un po' un purpurì Mauro Longo e Malaspina ci insegnano a scrivere la nostra avventura dalle storie a bivi ai libro game carino molto carino attenzione qui la Nord quando ai tempi d'oro pubblicava anche libri di scrittura creativa i personaggi dal punto di vista di Orson Scott Card molto bello la revisione i temi e le strategie la trama non ho tutta la collana ma erano veramente libri ben fatti sono libri di scrittura creativa scritti da americani sono molto pragmatici a me hanno insegnato molto però ci sono c'è una gita al faro bellissimo bellissimo però l'ho lessi tanti anni fa quando ero un po' impazzito molto più impaziente di oggi Tabucchi Asimov Nemesis Patricia Highsmith questo mi è piaciuto quando cadrà la pioggia tornerò una storia un po' romance ma un romance paranormale giapponese Kurt Vonnegut dell'amore di altri demoni no grazie mi è veramente molto annoiato bello questo qua tanto carino Arthur Conan Doyle che ci casca con tutte le braghe in questa truffa in cui insomma gli dicono guarda ci sono le fate lui vero verissimo le fate ecco questo è uno di quei libri che tutti citano nessuno ha letto io ne ho letto una parte può andare la democrazia in america di Alexis Alexis de Tocqueville che fa il paio con la storia degli Stati Uniti siccome scrivevo una tesi di laurea sui supereroi americani è qualcosa dove lo studiamo ragazzi Tommaso Labranca non vi interessa probabilmente ma questi suoi libri sono eccezionali eccezionali non vi interessa se insomma siete solo appassionati di fantasy horror intendiamoci ma io lo so che siete lettori versatili quindi una bella guida al novecento potrebbe fare al caso vostro Uomini nudi di William Goldie e insomma ragazzi qua siamo proprio nella preistoria quando gli uomini erano molto più pelosi e poco vestiti un romanzo eccezionale vabbè c'è un pennac c'è un po' di Daniel Pennac la preistoria questo è un libro che mi regalarono quando ero veramente un po' pantello perché io volevo essere un archeologo come Indiana Jones quindi mi regalarono questo che è un libro difficilissimo e quindi fu un bel pacco beh se siete arrivati fin qua è il momento di affrontare questa libreria come forse sapete se seguite il mio canale fin dai primordi all'inizio io recensivo in particolare horror solo horror e qui ci sono diversi libri di una casa editrice che ho recensito tanto cioè Independent Legions Publishing questo forse è uno dei suoi libri che io amo di più i racconti di Richard Christian Matheson il figlio di cotanto padre che abbiamo già menzionato in questo tour questa è una raccolta straordinaria purtroppo resa disponibile solo ai cosiddetti lettori elite della casa editrice che pratica la politica di premiare chi è più affezionato è più fedele più abbonato più tutto ci sono tanti libri qui e in altre altre sezioni anche di Hypnos edizioni o Hypnos edizioni che dir si voglia beh insomma qui abbiamo tante cose che ho recensito uno dei miei preferiti è sicuramente Il profumo dell'incopo di Lisa Tattoli poi ci sono libri anche di Luigi Musolino alcuni dei quali lui mi regalò quando venne qui a farsi una bella rivedita con me e questo piacque molto anche il mio cane come potete vedere che ne ha insomma ne ha usufruito per farsi i denti un autore che io amo molto è Jonathan Carroll qui c'è il suo primo romanzo Il paese delle parcerisate eccolo qua e poi diversi altri le copertine di Carroll spesso sono molto interessanti molto belle questo che si era la casa editrice era Fazzi mi pare sì Fazzi con lana Lane bellissime io adoro Jonathan Carroll perché è uno scrittore libero e fuori dagli schemi un surrealista che scrive sempre e poi alla fine storie d'amore ma con uno stile con un approccio il primo libro che lessi il suo fu questo pubblicato da Fenix tanti tanti anni fa nello scaffale immediatamente sopra potete vedere che ci sono di nuovo tante belle pubblicazioni da edicola come Lisa Kasimov Science Fiction Magazine che compravo fedelmente negli anni 90 come questi albetti come possiamo chiamarli il fantastico economico Newton Compton Newton queste edizioni a mille lire permisero a studenti spiantati come me di leggere tante cose tante opere seminali importantissimi tanti classici meravigliosi del genere fantastico sono molto affezionato qui un po' di perle uscite sempre in urania che mi hanno molto colpito gli evangelisti questo romanzo di Mark Laidlow che è un horror incredibilmente spaventoso se vi capita fra le mani nelle bancarelle non perdetelo Mark Laidlow ha scritto soprattutto poi videogiochi ma come romanziere paura paurissima Dan Simmons il bellissimo Ghiaccio 9 di Kurt Vonnegut Philip Josef Armer o Giuseppe non so Robert Hinden come sempre Hyperion ok andiamo su andiamo su ancora qui ci sono un po' la sezione saggistica saggistica del genere insomma cioè del fantastico in un certo senso del dark dell'immaginifico perché insomma se hai un canale che parla di queste cose forse è meglio che un po' ti studi la materia questo è il libro che la mia ragazza mi invidia di più perché è una collezionista tolkieniana e questo ormai è un libro che non si trova se non insomma a peso d'oro e quindi ciao Sveva e adesso veniamo a vabbè un bellissimo saggio sul cinema horror una biografia di Tolkien un po' di heavy metal analizzato e vivisezionato e poi Beo Doia che la fa abbastanza da padrone con la guida ai narratori italiani del fantastico al cinema horror alla letteratura horror a Robert Howard e a Conan il Barbaro c'è Mark Fisher come potete vedere c'è Corigliano con la letteratura weird c'è Stefano Di Marino buonanima c'è un sì come scrivere anche gialli no questo è metodi di indagine balistica raccontati da un ex poliziotto questo andrebbe di più nella scrittura creativa devo ammetterlo i testi di Manzetti sull'horror di Asimov sulla fantascienza di Mark Fisher sul capitalismo un po' di Lovecraft lo vogliamo prendere in considerazione il gioco di ruolo con cui mi diletto ancora la edizione annotata dei suoi racconti bellissimo tutte le opere di Lovecraft le opere insomma letterarie non la corrispondenza qualche fumetto giapponese qualche manga tratto da Lovecraft Cthulhu e le montagne della follia qui c'è Gormengast che insomma prima o poi dovremmo parlarne sul canale un gioco di narrazione basato su Lovecraft Lovecraft-esque e poi vabbè cambiamo cambiamo invece beh no qui c'è ancora il richiamo di Cthulhu in questa edizione è tascabilissima un libro a bivi delle montagne della follia molto carino molto carino poi cosa abbiamo Mazza e sensolinica imperversano con il regno d'Italia qui un Michele Borgogni smarrito in mezzo a questi libri mi scuserà Danilo Arona oh Girola ciao Girola Girola e Simeone con l'anima pop degli anni 80 andrebbe giù nella saggistica ma che non c'è la spazio tanta fantascienza almeno con me Philip Dick a tutto spiano oh qua c'è finito un cabal di Clark Barker cosa ci fa qui che casino e poi invece dei classici come Neuromante Guida Galattica per gli autostoppisti di nuovo Robert Heinlein Robert Shaqley Jack Fini l'invasione degli ultracorpi bellissimo Asimov ricorre ricorre e Bradbury che ricorre anche lui parecchio questi sono i bellissimi volumetti di Ai confini della realtà Ai confini della realtà di Rod Serling i racconti originali e poi un bel po' di di come si chiamava Solaria questo è bellissimo che negli anni 90 voleva fare un po' concorrenza a Urania e a Nelicola per un po' fu una bella lotta anche se impari molto impari bene qui insomma siamo un po' più nella miscellane anche di nuovo ci sono scaffali meno coerenti qui c'è Robert E. Howard con le storie del cowboy questo mi è appena arrivato all'Uccigenia dovrò assolutamente dargli un'occhiata sono molto curioso vicino a chi? a Baudelaire ed Edgar Allan un po' naturalmente mi sembra più che logico andiamo avanti dai la compagnia nera questo qui il primo volume di Fantasy che era un urania che voleva essere un corrispettivo Fantasy di Urania uscito nel 1988 Orson Scott Cutt e io me lo conservo Wes Craven si è messo a scrivere questo libro ma molto probabilmente in realtà si è affidato a un ghostwriter e poi naturalmente letture imprescindibili come verdure sotto vetro consigliatissimo farò una recensione non c'è dubbio come funziona la musica? ce lo dice David Byrne non so perché sia qui questo libro ma è perché ragazzi io sono disordinato di nuovo Davide Mana con un libro tratto da Alex Arcana questo ve l'ho recensito dai non rompete ve l'ho recensito andatevela a cercare allora come vedete c'è Terry Brooks tutta la saga il grande libro di Stephen King e poi iniziano ad esserci qua dei draghi mondadori mi trema la mano scusatemi è un casino io questi insomma più o meno tutti sono stati oggetto di qualche video ci sono le storie di streghe ci sono c'è l'incro questo bellissimo a sinistra vedete quello verde interessante il fatto che abbiano raccontato storie in cui Sherlock Holmes si occupa dei miti di Cthulhu c'è Robert Stevenson Robert Louis Stevenson c'è Ambrose Bierce iniziana del diavolo e tanti racconti meravigliosi c'è Kafka c'è Le Fanuc uscito da poco c'è Arlan Ellison scrittore di fantascienza fuori da ogni schema e questo visioni è consigliato assolutamente e qui ci sono altri draghi mondadori sì questi sono più sono fantasy ok Lord Danceni Fritz Leiber Clark Heston Smith Patricia McKillett Ursula Le Guin David Eddings sono tutti bei libri tutti bei libri molto interessanti questo c'entra niente ma vabbè l'istinto di narrare è un saggio l'ho appoggiato qui per il momento Moorcock e altri grandi della narrativa fantasy tu? no sei fuori luogo insomma qua però The Dresden Files sono storie carine ed insomma un investigatore paranormale Joe Abercrombie Tanneth Lee questi due ma più o meno bellissimo libro illustrato e fotografico sugli scrittori la vita e le opere e ne vogliamo di fantasy ancora? questo è il primo romanzo fantasy che io lessi mi fulminò è uno Sword and Sorcery di Robert Hayley geniale ironico profondo drammatico meraviglioso e io lo conservo come un cimelio qua vedete tutte queste X non perché sia un libro porno ma perché io quando ero piccolo mettevo le X per dire quanto mi fosse piaciuto al posto delle stelline che oggi vanno di moda e qui ce ne sono ben 1, 2, 3, 4 che credo fosse il massimo per me allora qua ci sono i libri dell'editrice Nord cominciano qui Catherine Kerr bellissima saga di Devery che consiglio molto romantica molto avventurosa ci sono diversi diversi formati dei libri dell'editrice Nord Harry Turtledove che andava via come il pane negli anni 90 questa è la saga di Crispos ecco rimettiamo a posto questo scusate lo scossone e poi andiamo qui e qui comincia c'è un po' il mio piccolo tesoretto in crescita perché man mano magari se li trovo li aggiungo di Fantacollana Nord ma prima ancora prima ancora ladies and gentlemen di Collana Arcano è stata la collana che ha precorso la Fantacollana primissimo volume uscito Lion's Prague the Camp che è un altro autore che oggi non è che goda proprio di tanta lisibilità forse dovremmo un po' recuperarlo ecco poi cominciano qui numero uno della fantacollana numero due tre quattro cinque sei sette tredici era così è andata così non ho non ne ho poi tanti come potete vedere però quelli che ho a me mi piacciono mi piacciono tanto questi libri ecco allora questi io ce li ho da una vita quelli di Conan in particolare perché perché in corso di insaglio a Torino c'era questa lunga teoria di bancarelle dell'usato dove io mi andavo ad approvvigionare regolarmente portando valigie piene di cose che insomma di libri di fumetti che vendevo per avere i fondi con i quali acquistare qualcos'altro e questi di Conan li comprai in blocco quando mi capito di trovarli per scoprire appunto un autore è un personaggio che ovviamente essendo io un ragazzino essendo io un maschietto essendo io appassionato di avventura mi regalarono ore e ore di gioia e ricordi imperituri ecco vedete per esempio anche questo ma come fa un adolescente maschio testosterone e complessato come ero io a non innamorarsi di queste copertine ok come vedete qui si va avanti per un po' ci sono dei bei volumi un altro scrittore che in questo caso però era una scrittrice sotto mentite spoglie era Catherine Moore che scriveva ai tempi di Howard quindi di Conan queste storie su Golden Sorcery questo è un libro che devo rileggere perché l'ho lessi proprio quando mi avevano appena tonto i pannolone praticamente sì tipo avevo 15 anni e ricordo che lo adorai lo adorai tra l'altro autoconclusivo quando l'ho rivisto in una bancarella sì mi ci sono inventato con la schiuma alla bocca David Gemmel o Gemmel per meglio dire e poi c'è qui la nota famosissima saga di Tartletop della legione perduta una legione di antichi romani che si perdono in un mondo parallelo che ha molto di bizantino di bisanzio eccola qua c'è tutta tutta è molto amata è uno slow burn possiamo dire non è che sia ricchissima d'azione scendo ci sono altri della fantacollana qui si segnalano in particolare il lupo dei drenai sì e quest'altro di Gemmel la regina guerriera ecco ve lo mostro meglio e anche questo di Friedman che è molto bello il cavaliere del sole nero è uscito da poco una ristampa di fanucci di questo andiamo avanti William Morris Proto Fantasy edizione integrale fanucci satanica e questo lo devo leggere ancora non ce la faccio ragazzi non ho tempo la vita è breve però gran bella copertina sono racconti di autori italiani a tema sotanico Peter Straub il drago del male e qui ci sono un po' di errorucci dei tempi che furono Ian Banks il ponte Charles L. Grant la carezza della paura adoro queste copertine pacchiane bruttissime che però insomma commuovono in certo senso questo l'ho recensito nella ridossa il serpente uroboros l'ho recensito e torniamo a Tartle Dove che qui è rappresentato con questo bel cofanetto eh bello no? World War la saga appunto della invasione degli alieni durante la seconda guerra mondiale e proprio un distillato di Tartle Dove tanta storia alternativa appunto sono arrivato beh ho letto questo ho letto questo ho letto questo e ho letto metà dell'ultimo e poi mi son detto ma basta questo è quello che ricordo di questa saga che è pienissima di personaggissimi ma bella eh divertente però lunga 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 un Peter Straub Ghost Story un Ray Bradbury che come vedete ricorre ancora questa era la collana la biblioteca del brivido di Faber Editori io allora queste copertine sono di una bruttezza esemplare però sono usciti dei libri molto molto belli qui e questi sono forse i più belli in assoluto ma parliamo anche di queste altre rispettabilissime anticaglie editoriali questo è Donaldson tutto Donaldson questo questo spazio perché qui c'è tutta la prima saga di Thomas Comellant l'incredulo guardate che copertina favolosissima c'è tutta la prima saga e c'è anche tutta la seconda devo dire che questa la prima trilogia in particolare ragazzi è grande high fantasy è grande grande high fantasy e qui c'è anche questo questa duologia biologia di questo cos'è comunque sono due volumi altri reperti degli anni che furono anche qui un po' di editrice nord paolo anderson gli origini danesi si è divertito a scrivere un romanzo fantasy basato su insomma i miti i miti norreni ricordo sempre con grande piacere questo tre cuori e tre leoni che è uno dei libri fantasy che mi hanno un po' formato sì perché allora la prima volta l'ho lessi in biblioteca pubblica corso Vercelli mi pare a Torino fui folgorato folgorato ragazzo ovviamente poi appena ho potuto l'ho recuperato sui dei questo è un libro importante perché comunque stabilisce alcune regole di base di tanto di tanto tanto fantasy successivo per esempio anche la guerra il conflitto tra il caos e l'ordine che poi sarebbe stato ripreso anche da Murcock questo è un libro ragazzi importante altri tesoretti dell'edicola che fu vedete queste antologie no? del terrore come facevi a non prenderla? le faceva le pubblicava Newton Compton questi sono libri pre-gentrification amavo tanto il fatto che fossero così popolari esattamente come lo erano queste edizioni sempre di Newton che Tom Compton che pubblicava i grandi i grandi classici come James storie di fantasmi vari ma passant ti costavano quattro spicci ragazzi quattro spicci io adoro veramente tanto intendiamoci amo tantissimo questi guardate questa bella fila di libri straordinari che sono i draghi mondatori però è chiaro che sono un'altra un'altra concezione proprio editoriale più gentrificata costano tanto ti danno tanto ma costano tanto questi qui ti davano tanto e costavano quasi un cazzo e questo per me è anche un po' segno dei tempi ragazzi mi sono preso questi su ebay gargoyle books difuntissima però ragazzi che bei libri che ho pubblicato anno 7 di robert mckaymond e anche mary terror mamma mia che paura sta copertina spirit il geido abbraccio questo beh meno ah questo ha una storia divertente questo è un libro che io questo è lion's plan de camp fletcher pratt un grande classico del sword and sorcery del fantasy sono diverse storie dove lo vado a trovare questo libro nella sala d'attesa del dottore e ovviamente sono andato dalla segretaria e ho detto senta signorina quanti anni di galera mi date se io vi rubo questo libro e insomma poi l'ho preso e un paio di giorni dopo sono tornato e gli ho regalato ho lasciato un altro libro che mi interessava meno nella loro piccola biblioteca della sala d'attesa e ancora tanta independent legion publishing tanti bei libri del terrore Brian Keane anche qui insomma e anche tanto ipnos edizioni Anders Fager ragazzi mamma mia io voglio più libri europei sì una volta io ero tutto per l'America perché ovviamente quanto ragazzino cresciuto negli anni 80 stravedevo per l'America mortacci di Berlusconi e della tv commerciale che comunque ci ha dato tanto ma anche mortacci di Stephen King in un certo senso che mi ha fatto amare l'America così come l'ama lui è normale però la verità è che mi piace anche tanto leggere storie inventate in Europa perché ammiro sempre meno l'America e sempre di più l'Europa se devo essere sincero allora questo è un grande libro paperbacks from hell copertine e tutta una storia dei libri horror con copertine pacchiane degli anni 70 e 80 è bellissimo poi qua ci sono altre cose molto belle occulta gli arcoiris edizioni la porta dell'irreale devo ancora leggerli come tantissimi altri libri Francesco Corigliano spette di pietra Francesco è bravo ed è anche molto esperto di weird molto molto esperto saliamo di un livello eccoci qua qui c'è tutta questa bellissima collezione di Bizarre di Agenzia Alcatraz io ve li ho recensiti praticamente tutti quindi insomma dovreste essere a posto così qui c'è anche Charlotte Sontanis che hanno pubblicato loro un libro molto curioso questa bambina che sogna che di notte viaggia nel tempo e si risveglia nel corpo di una di un'altra ragazzina di della guerra mi pare prima guerra mondiale la seconda non ricordo sì insomma non è che sia proprio incalzantissimo però è un bel libro un bel libro abbiamo per esempio un po' di numeri di Molotov Magazine di Independent Legion Publishing abbiamo Thomas Ligori Ligotti dai facciamo prima abbiamo cos'è questa roba qua ah 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 sì abbiamo un disegno originale di David Fragale più di uno uh uh paura un po' di autori italiani eh allora cosa abbiamo la compagnia della Selva Bella Giuseppe Pederial ne parleremo abbiamo Borgogni Berneschi e Borgogni che continuano a sfornare roba ragazzi ci cali probabilmente 23 tutti i bravi autori italiani andiamo a nenti con glitch e poi vabbè questi bellissimi libri questi proprio sono gloriosissimi del lippocampo illustrati in una maniera fenomenale sto leggendo in questo periodo Salambo di Flaubert in questa edizione goduriosissima e goduriosissimo come anche questo fascicolo su Cabal il film su Nightbreed che è pieno di foto di creature altro scaffale altra corsa e si comincia con la collana Badlands di Rettere Elettrica è una collana fantasy eccezionale secondo me perché comunque ci porta tanti autori nuovi e poi perché graficamente ragazzi arreda arreda tanto guardate che bello e torniamo ai vecchi tempi le fanù Carmilla perché dico i vecchi tempi perché perché questi erano i libri che uscivano per mille lire e io quando mi avanzava a mille lire li compravo sì signore Oscar Wilde l'amore e le donne aforismi ma anche Baudelaire il poema dell'Hashish insomma il velo dissolto io tante storie di fantasmi tante storie dark le leggevo in queste edizioni della morte dell'amore edizione originale di Ramsey Campbell The Darkest Part of the Woods e poi ci sono libri che ho recensito Madre delle osse Racconti horror di Christopher Fowler Canti di morte questo l'ho trovato ieri ragazzi è un'acquisizione recentissima l'ho trovato in un book crossing questo è un romanzetto bellissimo tutti i miei amici sono supereroi è una noveletta molto molto bella non c'entra niente con l'horror no questo è mainstream Eichmann altra edizione della ridicola Stephen King ma anche Clive Parker saggi e interviste a uno dei rarissimi ad Elfid della mia libreria proletaria Bella Lugosi carina molto carina racconti di vampiri di abiezioni ecco questo è John Saul i misteri di Blackstone in sei parti quando uscì in sei parti il romanzo dei King come si chiama Emilia Verde e beh insomma ci fu subito la corsa a questo formato uscirono non so almeno almeno i misteri di Blackstone è uscito non so se altre cose io lo comprai sì è carino insomma vabbè abbastanza un commodity horror i classici Alice nel paese delle meraviglie abbiamo sempre vissuto nel castello di Shelley Jackson e un altro Adelphi che ha trovato una collocazione ma diciamo la verità Adelphi non sono io che mi sono come dire avvicinato a te sei tu che ti sei avvicinato ai miei gusti ecco quindi è andata così perché prima Shelley Jackson era pubblicata in questo modo invece proletario appunto no questa è la casa degli imbasati voi direte cos'è questo è Hill House però usciva così e io l'ho letto prima di voi che poi invece ve l'avete scoperto soltanto negli Adelphi perché comprate i libri fighetti non è una polemica ragazzi ironizzo altre cosine molto molto edicolanti orrore rabbia ribellione il cinema di John Carpenter questo usciva con Nosferatu Tom Savini stregone ecco qua e Stephen Erickson i primi due e voi direte solo i primi due sì ragazzi cioè veramente dieci libri dovrei dedicare la mia vita a Stephen Erickson Hypnos Magazine tutti i numeri anche l'ultimo che ho criticato tanto sì vedete la rivista del insomma del weird ancora Hypnos Magazine con queste novelette ne ho diverse non tutte ma diverse vediamo un po' ah sì qua c'è un po' di girola allora un po' di libri self-published di del bravissimo Alessandro Girola con in questo caso Alberica Sveva Simeone poi abbiamo questo non se l'è pubblicato da solo Bertie Easton Ellis American Psycho mamma mia quanto mi sciocco dopo aver letto questo libro io andavo in giro guardandomi le spalle giuro vedevo serie Achiller dappertutto la storia di fantasmi di Wharton non mi ricordo il nome di battesimo di questa scrittrice ah questo è molto bello bellissima edizione di Mary Shelley Frankenstein l'ho affiancata a questa roba invece totalmente pulp Satan is for my love sono storie assolutamente scollacciate sadiche per onanisti dei tempi che furono moralmente opinabili ma il bello è che erano pubblicate da quella casa editrice che poi divenne la Marvel capite cioè questo nel 1938 40 Mike Mignola Christopher Golden bello Rosemary's Baby I sopravvissuti questa è una serie tv che io adesso si chiama serie tv ma una volta era uno sceneggiato io da piccolo lo vidi sulla Rai e quando ho visto il libro l'ho adocchiato e me lo sono assolutamente procurato Esorcista l'altro il noiosissimo I fantasmi di Ashburn House Full Brutal io ve li ho recensiti questi qui dovreste conoscerli questo qua pure due palle ragazzi mamma mia bellissimo il villaggio dei dannati Jimbo di Algernon Blackwood tenero tenero originale divertentissimi racconti del Grand Guignol questo è il primo numero della collana macabre di Sparling e Kupfer non è andata tanto bene sta collana insomma è andata un po' così infatti ha chiuso i battenti Ketchum Jack Ketchum Offspring tradotto da Paolo Di Orazio un libro senza compromessi due libri di Bentley Little The Revelation and The Resort divertenti direi dei pulp moderni commodity horror senza tante pretese ma veramente molto divertenti Emanuela Coccolo scensita bravissima e qui c'è la nuova collana horror curata da Musolino da zona 42 le prime due uscite che mi hanno dato soddisfazione e questo qua sopra che cos'è questo qua e questo qui è un reperto archeologico perché si tratta un libro antiquissimo più che altro ingiallitissimo La Montagna di Luce di Emilio Salgari è illustrato mi chiedo nel mercato del collezionino ma quanto possa valere se avete delle idee in proposito fatemi sapere Allora con mano tremolante vi mostro questi scaffali in alto dove si distingue fondamentalmente qual è la cosa importante da dire su questo scaffale c'è un puttanaio di roba quindi però la cosa importante da dire è che qui c'è il prima edizione questo è un libro che mi ha mi ha proprio sconvolto è cambiato la vita sì è stato leggendo questo che io ho detto da grande farò lo scrittore beh da grande faccio il ghostwriter dai ci siamo andati abbastanza vicini però diciamo che questo mi fece innamorare proprio della scrittura in sé altro scaffale molto in alto con beh sì roba varia devo dire si distinguono i due volumi di Engaged retelling eccezionale di beh peroncare dei promessi sposi in chiave fantasy il colore del male che è una bellissima antologia abbastanza introvabile storie di paura storie giapponesi di paura la trilogia della dorsale di Maria Gaiabelli scrittrice fantasy italiana assolutamente da scoprire assolutamente là sopra io non vi dico cosa c'è ragazzi cioè ve lo potrei dire a parte che c'è questo Conan pensieroso bellissimo ma più che altro quelli sono i scaffali dove accumulo roba in previsione di una migliore collocazione un po' più organica questi libri della costa rossa rovesciati che vedete sono i fondi di magazzino i miei fondi di magazzino del mio romanzo thriller paranormale che si chiama Ogni luogo un delitto là sopra ancora vedete cioè proprio ho appoggiato dei fumetti francesi che adoro che adoro ho un libro di illustrazione di Simon Stalennag come si dice quello lì ok intendo dire ci sono altri scaffali dove per esempio c'è Milton il paradiso perduto c'è il tesoro della novella italiana ci sono diversi romanzi del novecento italiano c'è Melville Gabriel Garcia Marquez con il suo noiosissimo cent'anni di solitudine cioè bellissimo adorabilissimo sulla strada sono questi classici della letteratura comprati per Doospeech Doyle Conan Doyle Flaubert The Faw Hawthorne London ragazzi roba tosta qua sotto abbiamo un po' di David Copperfield abbiamo un po' di o meglio abbiamo un po' di Dickens che ho anche poi in ebook e tanti altri libri sono in ebook per esempio allora l'antologia di Spoon River c'è addirittura un po' di poesia a casa mia pochissima però ve lo devo dire casa Howard il nostro uomo di Conrad tutta la saga di Odissea nello spazio di Arthur Clarke questo un libro di fantascienza enormissimo e bellissimo di Frank Schatzinger ah naturalmente Vita e morte dei grandi viking un altro libro d'oia è un regalo graditissimo graditissimo della mia compagna vi mostro per ultimo questo scaffale non entro tanto nel merito però qui c'è diciamo tutta la mia raccolta inerente la permacultura e l'autosufficienza mettiamola così che è un po' un sogno un orizzonte ideale che è bello vagheggiare però è anche bello magari autocostruirsi qualcosa coltivarsi un po' la terra questo è un capitolo della mia vita a parte eccoci qua siamo arrivati alla conclusione di questo lungo lunghissimo video spero che vi sia piaciuto io naturalmente non ho mostrato tutti i libri nello specifico è stata una lunga lunga carrellata soprattutto in chiusura ci tengo a ringraziarvi perché seguite il mio canale perché mi sostenete e anche perché acquistate i libri che consiglio e suggerisco quindi ai prossimi 5.000 ciao ciao